Salve a tutti, eccoci a un nuovo commentario del Tg, credo sia il Tg1, stanno aprendo, adesso ho potuto venire solo adesso a fare il commentario, lo vedo adesso perché lo vedo in Rai Italia, Rai internazionale, stanno commentando la polemica di Calderoli che dopo aver sfottuto gli islamici adesso sfotte i cattolici sembra, quindi lui è a favore delle pari opportunità, pari opportunità di prendere tutti per il culo. La prima tempesta, la scatenata invece Borghezio durante una trasmissione radiofonica, ci vuole imporre le tradizioni legali, il bonga bonga, il bonga bonga, il ministro dell'immigrazione per farli uscire tutti. Lo scorso maggio la polemica per la mancata stretta di mano fra la Chianghe e il capogruppo leghista al comune di Milano Morelli, qualche settimana dopo è la frase shock della consigliera leghista di Padova, Dolores Valandro, sulla sua pagina Facebook a suscitare reazioni indignate e l'espulsione dal partito. Io le chiedo scusa ma le rispetto è stato buttato giù in un attimo di rabbia. Anche Forza Nuova si è scagliata contro il ministro, scritte sono apparse a Pistoia e altre non rivendicate a Padova e Macerata. Contestata in diverse occasioni, ultima a Bergamo qualche giorno fa, a contatto di protette e striscione per dire stop agli immigrati, è a Bruxelles che è andato in scena l'ultimo round tra il ministro e Borghezio. In quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, forse bisogna porla al ministro della Repubblica Democratica del Congo. Una sola nazionalità, un solo passaporto e questa è la risposta. In una nota uscita a poco... Poi anche se avesse la doppia nazionalità non è che anche ministra del Congo, Presidente, non... ...dignato per alcuni gradi episodi accaduti in questi giorni dalla vicenda delle minacce a Maracassagna, all'incendio del liceo Socrate di Roma, fino appunto agli insulti odierni al ministro Tienghe. Episodi, secondo fonti del Quirinale, che dimostrano la tendenza all'imbarbarimento della vita civile. E diventa sempre... Più che altro della vita incivile. ...con l'estradizione dei familiari della dissidente Cazzarco, il governo ha disposto un'indagine per accertare le responsabilità, mentre la Farnesina precisa nessuna competenza sull'espulsione di cittadini stranieri. Giulia Palmieri e poi Sonia Farma. Ministero dell'Interno, 27 maggio. L'ambasciatore casaco, Yile Mesov, viene ricevuto dal capo di gabinetto Procaccini. Lì parla di un pericoloso latitante ricercato dalle autorità casache. Si chiama Mukhtar Abliasov. C'è un mandato di cattura internazionale. Per l'Interpol è armato e si nasconde in una villetta a Roma. Il Kazakhstan ne vuole l'arresto. Il prefetto Procaccini indirizza Yile Mesov al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dove il giorno dopo il diplomatico incontra il prefetto Valeri, capo della segreteria del capo della polizia. Valeri chiama il questore di Roma, Fuglio della Rocca, che passa il caso al capo della squadra mobile cortese. Segue un incontro con il diplomatico casaco a cui partecipa anche l'Interpol, che dipende dal vice capo della polizia, Cirillo. Poi la decisione di Alblis la notte stessa. Quando gli uomini della squadra mobile della Digo si rompono nella villetta di Casal Palocco, Abliasov non c'è. Trovano la moglie, Alma Shalabaeva, e la figlia di sei anni, Alwa. Lei stessa lo racconta in un memoriale pubblicato dal Financial Times. Una cinquantina di agenti sono vestiti di nero, hanno catene al collo, le urlano offese. Pensavo avrebbero ucciso me e Alwa, ricorda. Chi sei? Chiedono. Qualche bugia per proteggere la figlia? Poi mostra loro il passaporto diplomatico rilasciato dalla Repubblica Centrafricana. Sostiene di avere l'immunità. L'Ufficio Immigrazione della Questura invia un pax al Ministero degli Esteri per chiedere conferma, ma non specifica, precisa oggi la farnesina, il motivo della richiesta. Il 29 maggio la risposta del capo del cerimoniale del Ministero degli Esteri, sfregola. Niente immunità, via libera all'espulsione. La farnesina oggi spiega, in quel fax c'era il cognome da nubile, non potevamo sapere chi fosse. Alma e la figlia sono portate in un centro di accoglienza. Il 31 maggio un jet privato affittato dal governo kazako le riporta in Kazakhstan. Obbligo di dimora, non si possono muovere. Tra pochi giorni i risultati dell'inchiesta del capo della polizia, Panza. Farà chiarezza su fatti e responsabilità. Ormai che li hanno portati via, che chiarezza fanno? Sì, va bene. Intanto si sono tolti un peso di dosso. E poi... E poi basta. Poi li hanno fattuti. Il titolare del seminale ripete di non essere stato informato di nulla, come poi certificato dalla nota di Palazzo Chigi qualche giorno fa e avverte, cadranno molte teste. Anche il Ministro degli Esteri, Bonino, ribadisce la ricostruzione dei fatti, raccontando di avere riferito a Dattano di occuparsi personalmente della vicenda durante la festa del 2 giugno. In quell'occasione, informai anche il Premier Letta, racconta la Bonino. Abbiamo fatto una figuraccia, riconosce, ma non ho pensato alle dimissioni. Andarsene sarebbe inutile, ora bisogna darsi da fare. No, no, si dovrebbe dimettere. Già ha fatto la cadata. Adesso pagano altri le colpe sue, no? ...di cittadini stranieri, né accesso ai dati su persone che abbiano ricevuto lo status di rifugiato politico in paesi terzi. E infuria la polemica, capire le responsabilità funzionali prima ancora che politica e la linea del PD. Per Casini, Udc, l'espulsione ha contorni inquietanti. Da Stelle, Movimento 5 Stelle, mozioni di sfiducia per il Ministro dell'Interno. Il PDL fa quadrato intorno ad Alfano. Cicchitto ammonisce dalla Bonino ricostruzione ineccepibile. Le critiche arrivano da chi vuole fare cadere il Governo. Cioè, i diritti umani e l'asilo politico non valgono in Italia. I soli che ne sono beneficiari sono i nostri politici, che hanno sempre l'asilo politico perché non li condannano mai. Quale tensioni? Cecilia Pineranti. Hanno lasciato il segno le fibrillazioni vissute in settimana dalla maggioranza dopo la decisione della Cassazione sul processo Mediaset, soprattutto alla luce delle critiche che hanno investito il PD non solo dal suo interno, ma anche da Sette e Grillini. Così Epifani passa al contrattacco e spesso al PD. PD, PDL, lo stesso nome, PD o PD più L, che qualcuno ha in internet scritto ladri, quindi che cambia? Mi sono aiuto a Berlusconi, però tutte le norme che il PD vuole fare è che Berlusconi poi ringrazia. Non è che quelli del PD dicono che nessun favore a Berlusconi perché appoggiano una linea dura contro Berlusconi, ma al contrario, perché quello che faranno, oh coincidenza, servirà a Berlusconi. Però loro non lo fanno apposta, lo fanno seguendo la loro ideologia a Berlusconi, ma garantire i diritti umani di chi chiede assilo politico in Italia no, PDL e PD sono uguali. La maggioranza di 5 stelle è contro di noi, ma priorità per il PDL ora restano le misure economiche. Settimane decisive le prossime, riforma dell'IVA, riforma dell'IVA. Ecco, bravo Brunetta, Renato Brunetta, dillo tu. L'Italia ha bisogno di stabilità, l'Italia ha bisogno di cose concrete. Non ha bisogno di te, dillo, che quando c'eravate al governo da soli avete cagato tutto. Per questo occorre che tutti vogliono tranquillità, che ne sono gli rinfacci le cagate che fanno. Matteo Renzi, a sorpresa giovedì scorso, ha incontrato Angela Merkel a Berlino, il primo di una serie di incontri europei del sindaco di Firenze che per questo finisce nell'emirino di Beppe Grillo. Roberto Chinseri. L'incontro era studiato... Non si incontra con Giorgio Napolitano, però con il suo presidente, Angela Merkel. È bravo. Faccio faccio con Renzi. Bravo Renzi. Prima persona alla politica internazionale. Meno di un anno fa si stette in America all'incoronazione democratica di Obama, ma adesso l'incontro, avvenuto giovedì scorso a Berlino e reso noto solo ieri notte, assume un altro valore. Competitività, lavoro e Europa, i temi del colloquio fanno sapere dalla Germania. Renzi studia da Premier, anche se sta attento a non fare inciampare la Nicoletta, informata anzitempo della visita alla cancelliera. Non c'è un'agenda definita, ma si lavora per fare tappa nelle prossime settimane a Parigi e Londra. Meno male che è di sinistra, è andato a vedere l'incoronazione dell'imperatore Obama. Ma come la gente sta dietro a questi politici in Italia? Come dire, basta sottidanza alla Germania. Grillo va oltre nel termine in discussione l'Europa e l'Euro, ma l'obiettivo è Renzi il possibile prossimo avversario. Il Movimento 5 Stelle poi rilancia la sfida al PD, vogliono davvero il conflitto di interessi e allora votino la nostra proposta. Allarme della Banca d'Italia in tutti i settori della nostra industria, la produzione è inferiore al 2007, in qualche caso di oltre il 50%. Ecco, diteglielo a Cecchietto e a Brunetta, o a Cecchietto. Forse è meglio Cecchietto che Cecchietto, non so. Almeno sapeva polemizzare con Mike Buongiorno Cecchietto. E tutti a dire che sono stati peggiori quelli che gli hanno succeduto. PD, PDL, pressioni molto superiori a quelle registrate dalle aziende francesi e tedeschi. Ma voi, cari amici e cari amiche, che ne pensate di tutto questo? Perché io faccio sentire il telegiornale in diretta, però voi poi ragionateci sopra. Non dovete ascoltare bovinamente le balle che vi dicono nella RAI, perché della RAI nel mondo non c'è con cazzo a nessuno. ...lavoro più alto di 5 punti, una pressione fiscale maggiore. Da statare invece il mito del costo del lavoro troppo alto. Per gli economisti di Bacchitalia tuttavia, il declino delle nostre fabbriche non è irreversibile, non dipende solo da una domanda interna stagnante. L'importante, dicono, è sapersi trasformare, puntandoli più sull'innovazione di prodotto e la ricerca. La politica economica invece deve ridurre i costi delle imprese. E secondo gli artigiani di Mestre, chi possiede un'auto diesel in Italia paga il gasolio più caro d'Europa, siamo a quota 1,724 Euro al litro. Il gasolio ci dovrebbe permettere di risparmiare sul carburante, ma in Italia costa più il gasolio che la benzina. Lo Stato si indebita di meno comprando il gasolio, però la gente si indebita di più. Come può essere? Ha capito, protestano molti bianchi in America perché hanno ucciso un negro, è quello che dovrebbero ascoltare i leghisti prima di insultare i ministri italiani, no? Non colpevole l'uomo che ha ucciso Trayvon Martin, un ragazzino afroamericano di 17 anni. La gente non protesta per le affermazioni leghiste come in America. Certi leghisti dovrebbero essere del Ku Klux Klan. Se Zimmerman fosse stato nero, nemmeno ci sarebbe stato il processo. Provo Kaumara, un geniale avvocato difensore che è riuscito a smontare ogni testimonianza, instaurando dubbi anche di fronte all'evidenza. Nel febbraio del 2012, quando il giovane Martin fu ucciso, Zimmerman fuori stato solo dopo sei settimane di svegno nazionale. Se avessi avuto un figlio, sarebbe stato come Trayvon. Aveva detto il Presidente, ma in mezzo alla rabbia e alle professe, si alza la voce della figlia di Martin Luther King. Rispettiamo le sue parole, dice Berenice. Immostriamo che siamo capaci di decidere e di evitare. Sì, ecco, aspettate come degli agnellini che vi sacrifichino a tutti. Gli Stati Uniti vogliono fare incerenza in Egitto perché hanno paura che Siria si diffonda in tutto il Mediterraneo per colpa degli anglo-sionisti. Qui siamo al Cairo, nel quartiere di Feithal. Numeri impressionanti. In due settimane la quantità di armi confiscate è stata pari a quella degli ultimi tre anni. Nel Sinei prosegue l'offensiva militare contro gruppi jihadisti che dal giorno della destituzione di Morsi hanno ucciso un sacerdote, decapitato un commerciante cristiano e ucciso almeno cinque fra soldati e poliziotti. Morsi è agli arresti, ma viene trattato con dignità a sapere l'esercito. Intanto congelati i beni di 14 altissimi dirigenti dei fratelli musulmani, tutti accusati di istigazione alla violenza. Per domani il movimento islamista ha convocato una nuova massiccia manifestazione di protesta. Fra mille difficoltà comincia a prendere forma il governo di transizione, ma il paese tenta a tornare alla normalità. In piena crisi il settore del turismo che da solo dà da vivere a 12 milioni di egiziani. Così si presenta Sharm el Sheikh, la perla del Mar Rosso, spiagge, negozi, alberghi, tutti semivuoti, quasi del tutto assenti gli italiani. La cronaca ci riporta in Italia, non gli piaceva e così dopo un'elite uccide il fidanzato della figlia, è accaduto a Napoli l'assassino e un incensurato. Maria Laura Massa. Il fidanzato della figlia 19enne gli aveva annunciato l'intenzione di andare a vivere con la ragazza. Lui era contrario, è nata una lite, una collustazione violenta. Il giovane avrebbe fatto una pistola dalla matricola a Brasa, nel tentativo di disarmarlo sarebbe fattito un colpo. Così Andrea Cipollaro, 46 anni, autista incensurato, ha raccontato di aver ucciso nella notte Vincenzo D'Estatio, il 25enne di Maria Nell... E che poverino soffriva un trauma, non voleva diventare nonno, allora ha ucciso il genero. Il delitto è lì che il presunto assassino ha lasciato il corpo del ragazzo caricandolo in auto, forse con l'aiuto di qualcuno. Stando alla versione del presunto assassino che all'alba si è costituito nella caderma di San Giuseppe Gesuviano, si tratterebbe dunque di un incidente, ma dopo un interrogatorio fiume condotto dal PM della Procura di Nola, sono ancora tanti i dubbi sulla natura dell'omicidio, sulla dinamica e su un eventuale movente. Sullo sfondo la forte ostilità di Cipollaro per la relazione che il giovane intratteneva da oltre un anno con la figlia, da chiarire anche se la pistola fosse realmente in possesso della vittima, in tal caso ci si domanda perché il ragazzo si è andato armato all'appuntamento con il futuro suocero. Per farsi poi sparare, il trauma di dover diventare nonni, che non sempre si può affrontare, no? Un'anticipazione con Alessandra Di Tommaso. Diceva sempre che mi doveva tenere come il cavallo, doveva tenere le retini e che mi erano insulti o botte. Aveva un'astuzia, non mi faceva del male a lasciarmi lividi perché diceva che se mi lasciava lividi le persone poi se ne accorgevano. In una forte discussione ha tentato di uccidermi e il figlio grande mi ha salvata, mi ha fatto la rianimazione. Il figlio di Maria aveva 14 anni quando ha salvato la madre, il padre stava cercando di strangolarla. La incontriamo al centro antiviolenza di Messina, 15 anni di matrimonio, di sopprusi e botte, poi la forza di lasciare il marito. Maria si è salvata. Altre donne, 124 nel 2012, non ce l'hanno fatta e nel 40% dei casi… Io dico sono bestie neanche, non sono uomini, sono orchi, mostri. Tutti gli uomini si rivolgono a voi, sentono la gravità della situazione, cominciano a sentire che la moglie o la compagna non ci sta più a questo gioco e quindi uomini che hanno fatto un minimo di passo di consapevolezza. Si fingeva a maschio per diventare campione di squash, è la storia di una ragazza pakistana costretta a fuggire in Canada per scampare alle minacce alle talebani e continuare a fare sport. Ecco, hai capito le libertà religiose che ci hanno, no? E poi vengono a volerci convertire a noi. Bravi, no? Brava gente. Un dato acquisito per Maria Turfakai, 23 anni, nata in un villaggio tribale del Pakistan, è stata una conquista. Per inseguire i suoi sogni e diventare una campionessa di squash ha dovuto fingersi un altro. Sì, un altro, al maschile. Avevo quattro anni quando ho capito che volevo essere libera come ragazzi. Allora ho buciato i vestiti da femmina e ho iniziato a vestirmi come i miei fratelli. Ed è così che Maria, capelli corti, aria risoluta, ha iniziato a fare sport fingendosi un maschio. Gengis Khan è il nomignolo che le ha dato il padre, quello che ha voluto fare di lei una campionessa. Fino a che l'inganno non è stato svelato. A 16 anni un documento rivela la vera identità di Maria. Di lì le minacce dei talebani e la scelta della famiglia, una borsa di studio in Canada. Ma tra gli allenamenti e le previere, ogni giorno Maria si collega con quei genitori. Allora, è già tragica la situazione delle donne in Pakistan, in Afghanistan, con tutti questi fondamentalisti, bigotti religiosi. Ma che vengano anche a vivere allo stesso modo in Italia, torturando i loro figli e le loro figlie, questo no. Che si riformi l'Islam in Occidente e in Europa e in Italia. Perché mica vogliono dei torturati come ci sono anche all'estero o anche in Italia. O che magari inizino a voler imporre la loro sharia a persone italiane e occidentali e magari a te. ...fuori sulla piazza e attesa per l'angelo sul primo di Francesco. Vi tornerà a ferragosto. Parla dal fortone del Palazzo Pontificio, Vangelo del Buon Samaritano, la misericordia di Dio. Lui è misericordioso. Lui sa capire bene le nostre miserie, le nostre difficoltà, anche i nostri peccati. Ricorda il suo prossimo viaggio a Rio, la giornata mondiale della gioventù. Si vede che ci sono tanti giovani d'età, ma tutti siete giovani di cuore, eh? Ma complimenti, eh? Fagli apuri gli abitanti di Albano per il Santo Patrono, San Buonaventura. Ma io vorrei mandarvi una torta, ma tanto grande non so se la faranno. Poi è bagno di folla. A lui piace stare in mezzo alla gente, piace sentire il salone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. All'ultimo stato straordinario dell'Ivva Enrico Bondi, al Presidente della Regione Puglia, Nichi Bendola e al Direttore Generale dell'ARPA, Giorgio Assennato. Nel documento si legge che l'aumento dei tumori ai polmoni a Starranto sarebbe dovuto all'eccessivo consumo di sigarette, in passato più reperibili in una città portuale che altrove, e non a esposizioni occupazionali e ambientali occorse negli ultimi due decenni. Movimento 5 Stelle, Verdi e Rifondazione chiedono le dimissioni del commissario. Il Ministro dell'Ambiente Orlando ha deciso di convocare Bondi. Buon Dio, sai dove te ne puoi spiegliare tutte le sigarette, i figari e i toscani che stai fumando lì, no? Il tuo cuore diventa un accendino grande come tutto il porto. Alcuni campeggiatori hanno visto sbucare appena tra le foglie il corpo di una ragazza. Aveva addosso un paio di fuso e una maglietta, un'assidentessa cinese di 19 anni. Un portascogliere, perdona. Diventa un portascogliere grande come tutto il porto al tuo culo. ...segne di venti di violenza sul suo corpo, se non un lieve matoma sulla testa. Molto probabilmente si è sentita male ed è caduta, ma non lì. Per gli inquirenti il corpo della ragazza sarebbe stato nascosto nel bosco in un secondo momento. Viveva a Perugia con altre studentesse che non avevano sue notizie da ieri mattina. Dagli esami tossicologici si cercherà di capire se la ragazza fosse in stato debressa o sotto l'effetto di stupefacenti dopo una serata di eccesti. Domani l'autopsia. Una nuova strada nel bel mezzo del cimitero e in un paese del Piemonte si scatenano le polemiche. Franca De Paoli. Il sindaco aveva assicurato che avrebbe incrementato il turismo. Probabilmente non c'è la Torre di Pisa, non ci sono le madonna che piangono. Ho avuto questa bella idea di fare un'autostrada in mezzo al cimitero, che può essere un'attrattura del turismo, che sia una buona cosa. Il problema è che sulle tombe doveva mettere un divieto di sosta. Ho preso questo, comincio con questo, per un divieto di sosta che non vorrei trovarmi davanti alla tomba di mio padre e le macchine. Succede a Mezzo, Alto Piemonte, zona dei Lagno. Il sindaco di Vezzo si è tolto un vezzo. Ah, allegria! È stato aperto un passaggio alternativo, che però risulta impraticabile, troppo stretto, per i mezzi pesanti, per le ambulanze, ma anche per le autodevi evidenti. Il comune ha chiesto alla parrocchia una soluzione rapida e il parroco rapidamente ha fatto abbattere muro di cinta del cimitero e ha iniziato il cantiere per la realizzazione di una strada nel bel mezzo del Campo Santo. A polemica scoppiata, né sindaco né parroco vogliono microfoni, che sono invece ben accetti dai restri. Così vai al cimitero, ti schiaccia una macchina. Non funziona, non c'è problema del pedaggio, ci farà della via a caro, non... Sindaco e parroco, due merite teste di cazzo. Il centro-sud, allagamenti nel Tarantino, il clima estivo si è tropicalizzato, lo dimostrano nei cambiamenti di flore e fauna. Laura Casone e poi Carlo Stamani. La sul Milaveccia, ma non ho mai visto una urba gelat propria, proprio no. Strade trasformate in fiumi, come qui a Porrezzo, in provincia di Reggio Emilia, una tromba d'aria accompagnata da una grandinata, ha diverso alberi, scoperchiato testi e danneggiato le auto in forza. La fine del mondo. Come si può dissacrare la santità e la pace di un cimitero facendoci passare una strada in mezzo del centro urbano? Ma occorre essere testi di cazzo, no? Vi ho racconto di un anno di pomodori, meloni, anguri e praticamente di solito. Sì, sono andato lì per coprire i miei vecchi, con lì mandare dentro la chioca con i piccoli e dopo la grandina aumentata con una potenza lei ha cominciato a lo fanno, dico io mamma, si chiamava mia moglie, io non riesco più a venire indietro. Erano da poco passate le 20 di sera, quando a Torino si è abbassuto un temporale introvviso con chicchi di grandine, in alcuni casi, del diametro di 5 centimetri, vera e proprio pietra di ghiaccio. E sull'itorale del Morise stamattina raffiche di vento che hanno sfiorato gli 80 km orari. Travolto dal maltempo anche un greggio di pecore nell'alto Berbano, un fulmine spiegano gli uomini della forestale e ha colpito alcuni animali uccidendoli. Le altre pecore, terrorizzate, sono scappate finendo in un diruppo. Da domani la situazione dovrebbe migliorare. Quindi, pecore alla roccia? Pecore a rosto, già? Le piante tropicali hanno subito un aumento di crescita in questi ultimi 15-20 giorni, sicuramente anomalo rispetto alle piante mediterranee che invece seguono il loro iter tradizionale. Ad esempio? Ad esempio, questi sono dei peperoncini di origine tropicale che hanno subito una crescita rispetto a un peperoncino tradizionale decisamente superiore. Segnali quotidiani, quasi impercettibili, ma a detta degli esperti sufficienti per far mettere il nero su bianco che stiamo sempre più assomigliando ad un paese caldo. Detto da profani, ci stiamo tropicalizzando. Indicatore numero uno, piante, fiori e arbusti, ma non solo. Il segnale numero due è il tempo. Temporali di forte intensità e ondate di calore particolarmente lunghe e durature. Questa è una delle impronte di questo cambiamento climatico. Possiamo essere anche noi a rischio uragani tra un po'? Gli uragani no, sono tipici della zona tropicale. Quello che noi abbiamo sono degli eventi che hanno alcune caratteristiche simili, ma che sono decisamente più moderati. Ma è qui in mare, dove la dirata di fauna e flora verso i paesi del sud del mondo è più evidente. Le grandi navi trasportano ogni giorno 10 milioni di tonnellate di acqua di zavorra, quelle che servono a stabilizzare insieme all'acqua anche pesci e alghe mai visti. Sono state estimate che in Mediterraneo sono ormai entrate oltre 700 specie, chiamiamole, definiamole aliene, specie provenienti da altri mari. Tra gli ospiti più numerosi che ci hanno invaso il barracuda che si è riprodotto a dismisura nei nostri mari. Al momento però tranquillizzano gli esperti, non è aggressivo. No? Ah, sta tranquillo? Boh, sì perché sono ancora pochi. La fila di questi tempi è il buon segno della cassa di un museo che per un turista dell'arte ci racconta questa famiglia canadese può valere tutto un viaggio. Un'oretta e mezza diciamo di fila, però vale la prima. I monumenti di Firenze riflettori puntati non solo per quelle ore di assemblea finite nelle cronache delle porte chiuse dei musei, poi l'attacco francese con le figuerocchi accusa di arroganzi dipendenti. Meno di 200 per esempio agli uffizi accolgono, assistono circa 1.800.000 turisti l'anno. Un lavoraccio, dice Rosario, un ricercatore di storia dell'arte, qui 1.300 Euro al mese fa il custode spiega Michelangelo. Quello continua con il Louvre e il confronto dice senza senso. Eppure il Louvre conta su 2.000 dipendenti, su una superficie espositiva 6 volte superiore agli uffizi. Fatte le debite proporzioni si può dedurre che gli uffizi sono più efficienti e più produttivi dell'unseo del Louvre. Facciamo un giro tutti i musei aperti, del resto, dopo le assicurazioni del governo gli animi ci spiegano sono più sereni, anche se arrivano in viaggio. Ma che assicurano quelli del governo? Incredibile, vogliono assicurare anche turisti. Questo signore si viene dall'Australia almeno finché resiste. Cosa manca? Il sedile in più. Un migliaio di persone aspettando di entrare nell'uffizio a Firenze ci corre qualche sedile in più ma riempiono la piazza ci fanno un cinema l'aperto visto che aspettano. Se una volta era quello sulle bocicelle giuro classico tra le bellezze della capitale oggi i vetturini aspettano fermi per ore in piazza di Spagna mentre per le vie del centro scorrazzano avanti e indietro turisti in agile equilibrio su queste due ruote. Non è proprio sì, due marchi a Roma se vogliamo biga elettrica in fondo ci assomiglia. Il settimanale americano Time lo ha inserito tra le invenzioni più inutili di sempre è vero non ha rivoluzionato il mondo dei trasporti ma sicuramente fatto breccia nel cuore dei turisti e così ci raccontano solo a piazza del popolo se ne noleggiano una media di 150 al giorno. What do you think about it? È abbordabile non costa tanto ed è perfetto per un giro turistico ci dice lui 15 euro per un'ora sette società di noleggio a Roma circa 5.000 mezzi in tutta Italia tra Milano Firenze Torino Siracusa ovunque la possibilità di tour organizzati. Il tour classico dura circa un paio di ore e la compartenza qui piazza del popolo si va adesso via del corso poi a piazza Navona il Pantheon via del corso e via di corsa si va a piazza Venezia il Colosseo in questo caso al costo del noleggio si deve aggiungere quello della guida turistica a 40 euro l'ora per il codice della strada la diga elettrica vale un pedone e così via libera su marciapiedi nelle zone chiude a traffico a Villa Borghese il via vai continuo qualcuno si lamenta delle condizioni dell'asfalto ma poi il panorama ripaga di tutto ha capito la gente si lamenta e poi il periodico panorama ripaga di tutto quindi tutto spese se non mi sbaglio di Benedetti credo che il panorama era suo non so è stato trovato morto in una camera d'albergo di Vancouver in Canada a Cori Monti star della serie televisiva americana Glee un fenomeno da 50 milioni di telespettatori secondo la polizia non si è trattato di morte violenta l'attore 31 anni aveva avuto in passato problemi di alcol e droga grande sguimento su internet la sua morte poveraccio appena 31 anni e già è morto per alcol e droghe che tristezza a colla la voce di Eddie Marcy e Homer Simpson uno dei più grandi doppiettori italiani aveva 64 anni Paolo Sommarura la gente proprio cominciava che tutto a ridere la risata di Eddie Marcy certo una di quelle risate che si porti nelle memorie di spettatori io sono un anga e poco c'era lui dietro Tonino a colla una voce capace di inventare e dare corpo e sostanza non solo ad attori reali o mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto è stato la voce di Homer Simpson è stato la voce di tanti personaggi di animazione uno dei più divertenti Mike di Monster Seco era ancora lui e no chiacchie e più azione bollacchie tra gli attori Billy Crystal basterebbe Henry ti presento Sally ho tutto il diritto di scaricare la rabbia su te specialmente quando chi mi insegna a vivere la mia vita e i miei spunti perfetti e poi Hugh Grant Jim Carrey e il Mickey Rourke di nove settimane e mezzo era così stupido ho dovuto aspettare che avesse chiuso la porta per rendermi conto che non potevo più fare meno di lei eccellente direttore di doppiaggio a colla è stato uno dei talenti più grandi di un settore che prevede lavoro nell'ombra ma richiede capacità d'attore ascoltiamolo ascoltiamolo ancora con il volto di Kenneth Branagh il film Enrico Quinto l'astro d'Argento nel 1991 per il miglior doppiaggio e per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata e tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui e meno mati nella loro virilità tentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Tristino ed è tutt'ora Rai TG Sport poi te che te che te e la kitchen che è questo te che te che te te che le le che te vabbè le bu bu è stato un piacere per me farvi questo commentario al TG della Rai spero che vi sia interessato che sia stato di vostro grado qui chi vi parla è San Ten Chan e vi saluta da questo post cast perché sto troppo lontano dal modem wifi e non avevo segnale oggi quindi non ho potuto fare un live streaming ma sto facendo un record episode e quindi adesso caricherò nel mio canale radio San Ten Chan in cui voi state sintonizzati questo post cast commentando il TG1 e poi vi invito tutti a vedere tutti voi che mi seguite e anche quelli che non sono iscritti al mio canale radio San Ten Chan di speaker vi invito a vedere i miei video in youtube nel canale San Ten Chan il video nel canale San Ten Chan e in daily motion nel mio canale San Ten Chan poi seguitemi in San Ten Chan facebook e in San Ten Chan twitter vi raccomando il vostro amico San Ten Chan vi saluta e al più presto caricherò nuovi video non scordate di iscrivervi vi aspetto a tutti e a tutti grazie per il vostro appoggio grazie a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale grazie a tutti quelli che lo faranno grazie a tutti quelli che semplicemente mi ascoltano così di casualità ciao qua sono le 15.34 là devono essere le 20.34 tante saluti a tutti i miei amici d'Italia del mondo e in particolare a quelli di Cassel Palocco ciao ciao